Denunciare, denunciare e ancora denunciare sono gli appelli in particolare di chi è stata vittima di un'aggressione. Oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo deciso di ripercorrere la storia di Giussi Montecchia, che il 22 febbraio 2019 fu colpita con 14 coltellate sul lungomare di Tortoreto dall'uomo che non voleva chiudere la relazione con lei. Ma Giussi non ha mai mollato, rimanendo per mesi tra la vita e la morte, in una stanza del reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini Teramo. Sono una sopravvissuta, sicuramente una donna più forte, ma che oggi ha paura di tutto, ha dichiarato al quotidiano il centro. Non mi sarei mai aspettata che potesse accadermi una cosa del genere, che lui potesse fare una cosa come questa. Era una persona incapace di uccidere anche una formica. Alle donne dico di non arrendersi mai, di non tralasciare nessuna percezione, anche piccola, e di parlare perché comunque vadano le cose e non si resta mai sole. Una storia molto forte che per fortuna Giussi può raccontare e deve servire da monito per tutti. E proprio oggi in Cassazione si discute il ricorso presentato da Fabiano Cistola, il 38enne operaio di Corropoli, che quella mattina di tre anni fa tentò di uccidere Giussi. A gennaio i giudici di secondo grado, al termine di una lunga Camera di Consiglio, hanno ridotto la pena da 10 a 7 anni, dopo che il sostituto procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado, arrivata al termine di un rito abbreviato. L'uomo, secondo lo psichiatra forense incaricato dalla Corte d'Appello di fare una nuova perizia, è stato ritenuto capace di intendere e di volere anche al momento dei fatti.